Sono un sogno con te, oggi siamo tutti smitti perché siamo tutti qui per te. Inizialmente quando ci incontrammo avevamo modo di parlarne, veramente sembrava qualcosa di difficile realizzazione, un sogno. Ma poi attraverso il nostro impegno, attraverso una serie di incontri profili che ci sono stati con te e con i tuoi collaboratori, non sto qui a cercare per evitare di ometterne qualcuno, con il capo bandartistico Nello Marducci che è un militare in servizio e con la incondizionata condivisione del presidente del gran concerto bandistico, Città di Casagiove, Geometra Michele Milone, che come tu hai anticipato e promirlo a Chiedovenia, come hai anticipato tu, assente per motivi di salute, però indirizziamo all'amico di tutti Michele, ti vedo auguri più sinceri, avventuosi, auguri di prestissima guarigione, e presto lo vogliamo di nuovo tra noi perché abbiamo bisogno tutti quanti del suo prezioso contributo. Detto questo, la banda, io vi chiamo sempre banda, quando parliamo di banda mi salta subito alla mente, non possiamo non ricordare colui quale è stato il fondatore, il promotore di questo sodalizio, il professore Pompeo Ferraro. al quale tutti noi dobbiamo avvertire la necessità di essere riconoscente per quello che ha fatto per la nostra comunità. Io rammento tutti quei giorni che ci siamo visti, abbiamo parlato della fanfara e oggi, ecco, siamo tutti quanti felici, siamo qui per festeggiare la presentazione della fanfara, ali dorati, nella certezza che con il loro sostegno alare, con il contributo dell'intera comunità casagianese e con l'impegno di noi amministratori, che attagiò poi sempre più in alto.